Terra Mara, anticipazione e riassunto delle puntate in onda dal 6 al 10 dicembre. Unkar ha appena scoperto la verità sulla morte di Adnan e ne è rimasta sconvolta. Fekeli le dice che lui aveva sempre raccontato la verità e che aveva sofferto che lei non gli avesse mai creduto. Unkar gli dice che è veramente dispiaciuta che per una falsa testimonianza lui abbia fatto 20 anni di carcere invece di due e che ha perso la sua famiglia. Lui le risponde che forse era destino. Poi Fekeli le ricorda quando erano giovani e loro avevano un appuntamento durante il quale aveva deciso di chiederle di sposarlo ma lei non era andata e non si era più vista fino a quando aveva saputo che avrebbe sposato Adnan Yaman e che questa notizia lo aveva distrutto. Unkar angosciata dalla situazione di Demir che continua a stare in carcere si reca a parlare con il pubblico ministero. Qui Unkar dopo aver fatto presente l'importanza della sua famiglia a Cukurova parla in favore di suo figlio chiedendo che sia scarcerato prima del processo. Il pubblico ministero le dice che il figlio è stato imprigionato sulla base di prove e testimonianze e che non farà favoritismi. Unkar con Zuleya e Genko si recano a fare visita a Demir che li rassicura di stare bene ma chiede alla madre se ha parlato con il pubblico ministero e quando uscirà. Unkar lo rassicura ma non gli dice di averci già parlato e di non aver ottenuto la sua scarcerazione. Quindi rimasto solo con Zuleya le dice che ha sentito la sua mancanza e che lui non è un assassino e che per lui è importante che lei gli creda. Lei lo rassicura dicendogli che sa che lui è innocente allora Demir le dice di essere forte e che presto tornerà da lei. Tornata alla villa dopo la visita in carcere Unkar si incontra con il suo avvocato e si lamenta che Demir è ancora in carcere. L'avvocato le dice che possono fare poco perché ci sono dieci testimonianze contro di lui e il pubblico ministero è un uomo intransigente. Quindi le dice che ci sono poche speranze sull'esito del processo e che la sua inimicizia con Fekeli complica la situazione. Unkar angosciata gli dice che devono fare qualcosa allora l'avvocato le risponde che c'è solo un modo per salvarlo trovare qualcuno che si addossi il crimine di Demir. Sanye e Ghaffur vengono convocati da Unkar che trovano in compagnia dell'avvocato. Unkar dice che regalerà loro un terreno con una villa e 50.000 lire se Ghaffur si addosserà il crimine commesso da Demir e andrà in carcere al suo posto. L'avvocato interviene dicendo che resterà in prigione massimo due anni perché lo faranno uscire sostenendo la legittima difesa. Unkar gli dice che se accettano diventeranno dei veri signori e di discuterne tra loro. Tornati a casa Ghaffur e Sanye parlano della proposta e sono indecisi perché tentati dalla ricompensa ma paurosi di ciò che può accadere. Ilmas è in agitazione per l'arrivo di Mushgan che ha invitato a cena per farla conoscere a Fekeli e quando la ragazza arriva è accolta calorosamente da entrambi. Durante la cena lei parla di sé a Fekeli e l'elogia per aver lasciato una vita di agi e privilegi per venire ad aiutare i bisognosi a Cucurova. Dopo che lei se n'è andata Fekeli dice almas che Mushgan gli piace molto ma che lui deve dirle che la ragazza per la quale è diventato un assassino è Zuleia. Lo avverte che la verità viene sempre fuori ed è meglio che Mushgan lo venga a sapere da lui. Nel frattempo alla villa Yaman Ghaffur si trova con Unkar e l'avvocato per discutere sulla disponibilità a dichiararsi l'assassino di Said. Unkar vedendolo esitare aumenta la ricompensa e viene istruito su cosa dire alla polizia. Più tardi Unkar insieme all'avvocato va a trovare Demir e gli illustrano il loro piano per farlo uscire dal carcere grazie a Ghaffur disposto a prendersi la colpa dell'omicidio. Demir si infuria perché ciò significherebbe che è colpevole mentre lui non ha ucciso nessuno e preferisce che la giustizia appuri la verità. Mentre Cetin è in paese sente due uomini parlare e uno dire che Said è stato ucciso da Bekir e che Demir Yaman è in carcere al suo posto. Cetin chiede all'uomo se è sicuro e lui risponde che Bekir porta al polso l'orologio di Said e che i due erano nemici. Nel frattempo Ghaffur si è preparato per consegnarsi alla polizia ma quando Unkar torna alla villa gli dice che Demir non ha accettato e vuole aspettare che sia fatta giustizia. Ghaffur e Sani restano molto delusi. Fekeli con Ilmas e Cetin interroga Bekir e lo costringe a confessare di aver ucciso Said. Poi Fekeli gli chiede se glielo ha ordinato Demir Yaman ma Bekir risponde che non lo conosce e che lo ha ucciso perché aveva debiti con lui che non voleva arsaldare. Quindi Fekeli lo consegna alla polizia Ilmas però non è d'accordo nel far liberare Demir per tutte le sue malefatte ma Fekeli gli dice che in questo caso Demir è innocente e loro sono persone oneste. Più tardi Fekeli si reca a trovare Unkar e le dice che Demir è innocente e sta per tornare a casa perché lui ha consegnato alla polizia il vero colpevole. Aggiunge che lui non farà come Demir che lo ha mandato in cascere per vent'anni. Unkar si commuove e gli dice che è indebito con lui ancora una volta ma lui le dice che lo ha fatto solo per senso di giustizia quindi lei lo ringrazia e si guardano intensamente e a lungo. Tornato a casa Ilmas discute con Fekeli perché non è d'accordo che abbia fatto scarcerare Demir dopo che lo ha mandato in prigione per vent'anni. Fekeli gli risponde che voleva che il vero assassino di Said pagasse il suo crimine e che lui è sempre stato una persona onesta e non si sporcherà le mani per Demir. Demir tornato a casa dice alla madre che lo ha ferito molto credendolo colpevole. Unkar gli risponde che lui le ha mentito per vent'anni sulla morte di Adnan e che ha rovinato la vita di Fekeli e della sua famiglia. Demir le ribatte che lui ha ucciso suo padre ma Unkar gli rivela che Fekeli le ha raccontato della falsa testimonianza di Usain e della casa che lui gli ha comprato come ricompensa. Demir si giustifica dicendo che lo ha fatto per proteggersi perché se lo avesse lasciato libero avrebbe distrutto la loro famiglia e loro non avrebbero potuto avere potere e ricchezze. Unkar gli dice che però avrebbero la coscienza pulita e che non sa come fare per perdonarlo. Demir furioso le dice che se non può perdonarlo allora non possono vivere nella stessa casa e chiede a Zuleyya di fare i bagagli perché non vivranno più nella stessa villa di Unkar. Mentre Elmas e Mushgan stanno passeggiando lei gli parla della scarcerazione di Demir e gli dice che lui è molto innamorato della moglie mentre lei lo ama di meno. Poi gli chiede se una volta che si è amato si può amare di nuovo. Elmas le risponde che quando si è feriti si pensa di non poterlo fare più fino a quando si incontra una persona che guarisce le ferite e si può amare di nuovo. Poi Elmas aggiunge che la ragazza che amava e per la quale è andato in prigione lo ha dimenticato rapidamente e quel che ne è rimasto non è amore ma una ferita che però adesso è chiusa e lui ha iniziato una nuova vita grazie a lei. Demir con Zuleyya, Adnan e la babysitter vivono in hotel e lui spiega alla moglie che è arrabbiato con la madre perché lo credeva un assassino tanto da convincere Ghaffur a prendere il suo posto in prigione e che non ne sta soffrendo solo grazie a lei che gli sta vicino. Alla villa di Fekeli Elmas si lamenta ancora con lui perché ha salvato Demir dopo che lui lo aveva mandato in prigione per vent'anni e si era impossessato di tutto. Fekeli gli dice che gliela faranno pagare ma non per un crimine che non ha commesso ma con la giustizia. Poi lo esorta a cancellare l'odio dal suo cuore. Alla villa Ghaffur cerca di approfittare dell'assenza di Demir per assumere più potere e ricattare gli operai per farsi dare dei soldi. Poi quando si propone come amministratore a Dunkar lei lo rimette al suo posto. Ilmas è in ospedale a trovare Mushgan e dopo averla vista salvare la vita ad un uomo che ha ucciso la moglie le dice che lui non meritava di vivere. Mushgan gli risponde che lei è un medico e non ha diritto di decidere chi deve vivere e chi deve morire. Quindi gli dice che le ingiustizie che lui ha subito lo hanno reso crudele. Ilmas colpito da ciò che gli ha detto parla con Fekeli e gli dice che Mushgan gli ha fatto capire che è pieno di odio. Fekeli è contento e gli dice che l'amore glielo ha fatto capire. Poi gli chiede se le ha parlato di Zuleia ma Ilmas gli dice che non ne ha avuto il coraggio allora Fekeli lo esorta a dirglielo prima che sia troppo tardi. Quando Ilmas va da Mushgan le dice che lei aveva ragione e che le sue parole gli hanno fatto cambiare idea sulla giustizia e sulla vita. Le spiega che lui è sempre stata una vittima e che ha sofferto tanto senza colpe e ciò lo ha reso crudele. Adesso lo ha capito grazie a lei. Le chiede di non essere arrabbiata con lui perché si è innamorato di lei che le ha guarito le ferite. Così si chiudono le anticipazioni fino a sabato 10 dicembre. Iscrivetevi al canale e restate sintonizzati per nuovi video.